La JTF ha un blocco sull'Hudson, ma se ci muoviamo di notte possiamo passare. Anche se conosco a memoria i movimenti delle pattuglie non sarà facile, quindi i posti non li posso regalare. Se vuoi venire, devi pagare. E ricorda, niente con tanti, oro o altre stronzate inutili. Devono avere un valore concreto. Ma sono sicuro che ti inventerai qualcosa, se vuoi davvero venire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Attenzione, agente. Ho qualcosa di importante per te. Dovresti essere vicino, agente. Ottimo lavoro, agente. Agente è un piacere conoscere me. Sono sicuro che sia un piacere conoscere me. Forse mi avrei visto in televisione nel mio leggendario ruolo da agente segreto nella sua più a rata di sette, quindi posso capire quello che sta in passato. Io ratterò delle informazioni sulle conoscere, ok? Grazie. 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 Grazie.